L'amministrazione comunale di Campobasso ha deciso di investire sull'istruzione ma soprattutto sulle scuole sicure. Lo aveva annunciato il sindaco Antonio Battista e oggi ha raggiunto assieme alla sua squadra il primo traguardo presentando nell'aula a consigliare i progetti che diventeranno a breve esecutivi relativi ai tre nuovi poli didattici del capoluogo che saranno costruiti in via Crispi, nell'area del Cep Nord, in via Leopardi e via Alfieri. Un momento storico importante per la città di Campobasso perché rimettiamo su tre poli didattici, li condensiamo su tre siti molto strategici per la città di Campobasso, soprattutto saranno scuole totalmente nuove. Nel giro di una decina d'anni Campobasso avrà tutte le scuole nuove, tutte antisismiche. È un lavoro enorme, un impegno importante. Abbiamo avuto la vicinanza da parte di tutte le istituzioni e delle famiglie, anche degli stessi ragazzi e dei dirigenti. Lo sforzo che abbiamo fatto era un atto dovuto nei comuni di questa città che ha saputo manifestare in modo determinato l'esigenza di avere scuole sicure. Strutture che, come illustrate questa mattina dai progettisti, garantiranno la massima sicurezza alla popolazione scolastica, ma anche moderna e comoda fruibilità degli spazi. I finanziamenti sono per circa 11 milioni da parte del Cipe, ovvero della regione Molise. Altri 5 milioni sono un cofinanziamento del comune di Campobasso. Quindi abbiamo circa 15-16 milioni di euro destinati alla costruzione di questi tre poli didattici. Voglio sottolineare come a questi tre poli didattici si aggiungerà, fra qualche giorno, sempre a valere su questo capitale in disponibilità, si aggiungerà la scuola di Via Iets. Anche lì abbiamo pensato di rifarla, abbiamo del tempo davanti, anche rispetto a quelle che sono le analisi condotte dall'Unimo, e quindi però ci stiamo apprestando anche lì a rifare una scuola totalmente nuova. Speriamo di poter presentare nel giro di un paio di mesi anche lì un progetto esecutivo. Non soltanto le scuole dell'obbligo. I 5,4 milioni comunicati ieri da Roma in arrivo per la provincia di Campobasso consentiranno infatti all'ente di Via Roma di tirare un po' di fiato. E soprattutto si procederà nei prossimi mesi all'abbattimento dell'ex Romita per la costruzione del nuovo liceo Galanti. Anche in provincia non siamo stati fermi. Voglio dire che abbiamo il progetto praticamente in fase di affidamento per la costruzione del nuovo Galanti, laddove prima c'era lo scientifico che verrà abbattuto entro qualche mese e lì costruiremo un nuovo edificio. I 5 milioni saranno indispensabili e utilissimi. Sarà, come diceva lei, una boccata di ossigeno. Ce ne servono molto di più, ma per il momento va bene così. Continuiamo a lavorare e speriamo di poter rispondere alle esigenze del territorio. Grazie.